Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A settembre, a meno di clamorose sorprese, dovrebbero partire i lavori per la riqualificazione dell'area San Pio X a San Benedetto. Da circa 30 anni il quartiere chiede una piazza davanti alla chiesa e questa sarà finalmente realizzata insieme ad altri interventi. Non sembra che la lotta stia arrivando al traguardo. Qui dovrebbe, c'è tutto un progetto già in comune presentato dall'impresa Arcadia su studio dell'architetto Domenico Sfirro e qui faranno sorrappare questa piazza, che è una piazza che più che una piazza è un parco, un parco diciamo col verde. Poi questa strada qui dove noi stiamo attualmente verrà soppressa perché viene aperta la strada che fiancheggia quelle palazzine che si va incrociare con una strada che da quel punto là, al limite della piazza, va giù verso via Virgilio. La strada verso Viale dello Sport sarà deviata verso sud in modo da costituire un incrocio regolare e con una rotatoria per smistare il traffico. Qui sorgeranno alcune palazzine ma anche un edificio che ospiterà un supermercato, mentre gli spazi ridosso della ferrovia saranno trasformati in parcheggi. Diciamo che questa è una lotta che noi stiamo facendo ormai da 40 anni, cioè qua ogni volta che si parla di Maria Corsini e Maria di Sotto si parla della piazza, sembra che noi abbiamo solo bisogno della piazza, ma non è così. Oggi siamo arrivati a un punto che sembra che non è più una promessa ma è una realtà. L'impresa dovrà fare la piazza, la strada, il comune dovrebbe fare la rotatoria. Stiamo presente che San Pio X è un quartiere cerniera tra San Pernetto e Porto d'Ascolo, quindi è l'unica parte in cui ancora può diventare diciamo bella, quindi facendo queste opere avremo un quartiere bellissimo. In più qua ci verrà questa zona qua, ridosso tra la nuova strada, ci verrà un fusto di verde. Ma oltre alla riqualificazione di San Pio X, il quartiere è interessato da problemi di viabilità a causa di strade non terminate, come via Lombroso. Io ribadisco che il problema si risolverà in via Volta quando apriremo via Lombroso, perché avrà la possibilità di fare un giro in maniera tale da liberare una parte del traffico che c'è in via Volta e di rottarlo su via Lombroso. Altro intervento necessario è l'apertura della strada di via del Correggio, problema che provoca un aumento del traffico altrimenti evitabile. Se 30 metri crea un tappo che si ripercuote su tutta la città, io non credo che ci siano problemi a risolvere la questione. Quindi ci affidiamo la buona volontà che hanno dimostrato alcuni esponenti dell'amministrazione.